Ben trovati dal lungomare di Napoli oggi perché siamo facendo la formazione, una formazione esclusiva di cui non sapete chiaramente quasi niente, perché è una formazione esclusiva sul metodo Solving Estate. Saremo qui tre giorni chiusi in aula per poco tempo e molto bene anche all'aperto per poter approfondire e formare le nuove agenzie del sistema Accord Soluzione Debite. Che cos'è il Solving Estate? Il Solving Estate è nato dall'esperienza mia e di Francesca Scarpetta in questi ultimi 12 anni. In pratica io e Francesca avendo comprato tanto alle aste immobiliari, a un certo punto abbiamo imparato un sistema alternativo che è quello del… scusate perché Cilippo che mi sta riprendendo stava andando a sbattere, per cui ho dovuto fermarlo. Dicevo, avendo avuto l'esperienza delle aste, a un certo punto ci siamo resi conto che bisognava trovare un'alternativa che potesse evitare anche una parte diciamo di concorrenza e quindi ci siamo inventati un modello duplicabile. Negli anni ho viaggiato tantissimo andando a fare operazioni in tutta Italia, facendo un pre-asta, comprando prima dell'asta e quindi questa mia esperienza è diventato un modello duplicabile, è diventato un sistema a cui abbiamo dato un nome che è Solving Estate perché è un sistema che deve essere applicato e duplicato esattamente come noi l'abbiamo fatto e per evitare appunto gli errori. Pensate, il solo manuale che non è in vendita, è un ulteriore libro, il solo manuale è di 240 pagine credo e prevede appunto che ci sia un processo ben chiaro da applicare. Che cosa facciamo noi? Trattiamo con gli istituti di credito e negoziamo, stiamo diventando diventando molto bravi, negoziamo appunto con le banche e con i creditori per far sì che il debito iniziale di una persona, facciamo un esempio, 100 mila Euro, divenga molto spesso anche 50 mila Euro. Perché ci riusciamo? Perché abbiamo un potere contrattuale con loro, perché conosciamo quali sono gli elementi su cui fare leva e riusciamo a ottenere quindi un win-win direbbero gli americati, un sistema vincente per tanti. Il sistema vincente è questo, diamo la possibilità al debitore di risparmiare tantissimo e di non vedersi la casa all'asta, diamo la possibilità alle banche di togliersi dal bilancio un debito e di incassare finalmente questi soldi che avevano acquistato. Ci facciamo dare in tutto ciò una grande mano anche dagli agenti immobiliari che sono poi coloro che si occuperanno della vendita finale dell'immobile. Quindi come vedete i soggetti sono sia il debitore che a questo punto rimane con un debito più basso, sia gli agenti immobiliari che avranno la possibilità di prendere una casa pignorata, quindi esorto anche gli agenti immobiliari in rete a chiamarci, andate sul sito Accord Soluzione Debite, troverete tutte le informazioni, sia chiaramente le banche stesse. Ma non mi dilungo più di tanto, oltre alle già 23 agenzie in Italia, oggi vi voglio presentare le nuove agenzie che stanno facendo appunto formazione, le persone più che altro che stanno facendo formazione oggi con noi. Quindi vediamo, sono qui con me, vediamo chi troviamo, chi viene? Luigi? Ecco vi presento la nuova agenzia di Casetta, ecco qua. Luigi, ecco a te il microfono, ben navigato. Chiamo Luigi Russo, io Maddalena Rega, siamo l'agenzia di Casetta, nuovi affiliati nella società Accord Soluzione Debite Nazionale, un'azienda praticamente che fa saldo e stralcio. Cosa facevi Luigi prima di... Io labriamo nel settore legale per quanto riguarda le pratiche di infortunistica stradale, risarcimento danni in generale. Diciamo che siamo entrati nell'azienda Accord perché fondamentalmente sposa un po' quello che è il nostro modus operandi che è quello di aiutare le persone che hanno problematiche da risolvere. Che hai imparato stamattina, un concetto? Allora, io ho imparato che con la nostra assistenza le persone in difficoltà, ovvero gli esecutati, possono avere il vantaggio di liberarsi da quello che è il debito, quelli che sono le loro problematiche purtroppo nei confronti della banca e di altri naturalmente creditori e quindi possono togliersi questo fardello e magari iniziare una vita senza portarsi questo strascico dietro. Bene, allora loro stanno alla prima mezza giornata, il corso dura tre giorni e quindi chiaramente stiamo iniziando questo percorso molto impegnativo, non facile, non è facile fare questo lavoro. Grazie ancora all'Agenzia di Casetta e da Casetta passiamo a Novara. Sono Antonio Malerba, sono l'affiliato per la provincia di Novara e del Verbano Cusio-Ossola di Accord Soluzione Debiti, sono molto soddisfatto di questa prima giornata di formazione, è un corso full immersion. Ma sei soddisfatto perché il posto è bello? Il posto è fantastico, è una giornata magnifica di sole che rende veramente onore alla città di Napoli, però anche per i contenuti perché per esempio ho imparato in maniera molto chiara che con l'operazione a saldo e stralcio immobiliare tutti i soggetti che intervengono, che sono interessati ne escono vincitori, ne traggono un vantaggio importante, l'esecutato perché viene liberato dal debito e può ricominciare a guardare al futuro con rinnovato ottimismo e fiducia, i creditori perché ottengono soddisfazioni in tempi molto abbreviati rispetto alle procedure normali e quindi ho imparato che possiamo operare bene dal punto di vista professionale portando anche dei vantaggi importanti ai nostri interlocutori. Grazie, grazie, vedo là. Allora, le altre agenzie sono rimaste un po' dietro, adesso le aspettiamo. Quindi intanto, come avete già capito, abbiamo già parlato con le nuove agenzie di Casetta e Novara. Vi ricordo che già in Italia abbiamo agenzie da Torino, Brescia, Bergamo, Milano-Monza, Vicenza, Ravenna e adesso c'è una novità vicino a Ravenna, adesso ve li presento. E abbiamo quindi una nuova agenzia a Rimini, eccoci qua. Allora, benvenuto. Buongiorno, ciao. Presente. Giorgio Pruccoli, Total Domus, si affilia con Accord per cercare di dare un ulteriore servizio nei confronti di chi cerca casa, di chi vuole casa e di chi si rivolge al mondo della casa. Bene, lui, infatti oggi abbiamo parlato di un concetto ben chiaro, noi siamo e rimaniamo investitori immobiliari. Noi come Accord aiutiamo il debitore a risolvere il problema ed acquistiamo la sua casa. Non siamo intermediari, quindi non devi essere un agente immobiliare per fare questo lavoro, ma semplicemente diventi un investitore immobiliare più profilato. Giorgio aveva tra l'altro già partecipato al nostro corso ASTRE, quindi già acquisito un'esperienza, ma ha voluto fare un salto di qualità affiliandosi a noi e ad avere un'ulteriore possibilità di posizionarsi su un territorio che a questo punto è diventato da esclusiva, molto interessante, specialmente d'estate, quindi c'è un bel sole come l'abbiamo trovato oggi a Napoli. E quindi per l'area di Rimini invitiamo gli agenti immobiliari che ti conoscono. Sì, a venire e a farsi avanti, presto ci sarà anche il posizionamento a Villa Verucchio, quindi primo entroterra di Rimini, presso la Total Domus che è la mia azienda, però ci sarà anche l'affiliazione con Accord e quindi apriamo questo ulteriore servizio sull'appunto settore immobiliare, investimento immobiliare. Ah, benissimo, bene, grazie ancora intanto e poi nei prossimi giorni faremo una carta intervista. E c'è Francesca, e l'amore se la vogliamo in video, Francesca ha pensato ad Accord, quindi facciamo finire a lei la diretta, vai Francesca. Io non stavo sentendo quello che avete detto prima perché ero al telefono. Perché hai inventato questa cosa che ci toglie tempo e ci toglie tanta energia, Francesca? Lascio atti il microfono. No, non ci toglie tempo, assolutamente, perché quello che facevamo noi da soli, ovviamente rendendoci conto che la cosa più importante è essere la presenza sul territorio per quello che riguarda le agenzie di Accord, ovviamente siamo presenti su tutto il territorio, adesso abbiamo attualmente 22 agenzie che ovviamente avranno il rapporto con l'esecutato, quindi invece di averlo noi a distanza lo avranno loro direttamente sul territorio, avendo però a supporto un marchio che sta diventando sempre più forte. Grazie. Grazie a tutti voi ancora per la diretta. Noi ci apprestiamo, fai vedere dove andiamo in questo momento, ci apprestiamo qua a sacrificarci in un bel posto qui sul mare e vi aspetto semmai anche domani dove continueremo con questo corso appunto sui starci immobiliari, in particolare sul sistema Solving Estate. Grazie a tutti e buona vita.